Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi vi faccio vedere come si fa per risolvere il problema dell'intasamento del radiatore del riscaldamento, stavolta su Volkswagen T-Roc 2000 Turbo Diesel. Innanzitutto l'alloggiamento del radiatore è completamente diverso da quello della Golf, quindi bisogna smontare molte più cose, è un mix fra Audi A3 e Golf. Questa è una tubazione che abbiamo noi per fare il lavaggio del circuito, quindi bisogna andare a smontare un bel po' di roba all'interno per andare a togliere il radiatore del riscaldamento, che vedete, cosa è uscito dal radiatore del riscaldamento? Tutta questa sporcizia qua, ok? Abbiamo già fatto il lavaggio dell'impianto, perché qua c'è tutto l'impianto di raffreddamento da lavare dall'ala Z e è uscito fuori ancora, vedete, questa sabbia che c'è dentro. Ora in questo caso, visto che l'impianto è molto molto sporco, perché come dico sempre per telefono che chiede dei preventivi, non tutte le situazioni che troviamo sono uguali su queste vetture, quindi ci sono dei casi che basta sostituire il radiatore di riscaldamento e lavare l'impianto, ci sono dei casi in cui bisogna andare a sostituire queste tubazioni perché hanno delle valvole dentro, come ho già spiegato nei precedenti video, e in questo caso, dove ha fatto questa, vedete, tutti questi pezzettini neri, praticamente, è la vernice che c'è esattamente dentro i tubi. Questi tubi qua, del raffreddamento, uno, due, tre, poi ce n'è due dietro ancora, uno qua davanti e uno che passa sopra, praticamente cosa succede? Che la vernice di questi tubi si stacca, si stacca, va a fare questi piccoli pezzettini di particelle di agglomerato che vanno a ostruire questi, perché comunque il radiatore che voi vedete dal riscaldamento, il passaggio è questa linea molto fine, lo vedete? Quindi andare a intasarsi questa linea molto fine è un attimo. Questo, ad esempio, è un altro tubo che è da sostituire, questo qua, perché, vedete dentro il tubo come è pieno, adesso non so se riesce a vedere dal video, vedete? È tutto pieno di sporcizie e di ruggine. Quindi in questo caso, dobbiamo andare a togliere anche il radiatore di raffreddamento della vettura, anche se dei passaggi più grandi, ma non più di tanto, per andare a controllare che sia tutto veramente bello pulito, perché se andiamo solo a cambiare il radiatore di riscaldamento, a dare una lavata all'impianto e rimettiamo su tutto, siamo sicuri che da qui 15-20 giorni siamo di nuovo da capo. Quindi in questo caso, diciamo che è una delle lavorazioni più invasive, che abbiamo fatto finora, che dobbiamo andare anche a togliere il radiatore di raffreddamento, e oltre alle tubazioni, e probabilmente dovremmo anche andare a sostituire questo tris di tubi qua di ferro, che ne andremo ad acquistare nuove alla Volkswagen, perché è andata via la vernice da dentro, e non sappiamo se la vernice è andata via completamente, o sono ancora a metà. Quindi andiamo a rischiare di andare a mettere un radiatore di riscaldamento nuovo, e di andare a fare un bel pasticcio. Ovviamente bisogna andare a levare via il frontale, noi per questa lavorazione qua ci siamo fatti queste guide, così almeno possiamo lavorare in sicurezza, andremo a smontare il radiatore di raffreddamento, andremo a lavare tutto, e la vettura è di nuovo come prima. Ovviamente, se il riscaldamento non funziona, non c'è la circolazione d'acqua, non essendoci la circolazione d'acqua, l'impianto va in sovra pressione, questo tappo della vaschetta a 1,7 bar di pressione lascia andare via l'acqua, che scende da qua e va per terra, e ovviamente la cosa più grave è che non ci sarà raffreddamento in alcune parti del motore, tipo la testata. Quindi, a usare la macchina così, con il riscaldamento che non funziona, e l'acqua che non circola bene, sicuramente si avranno poi, anche in futuro, delle probabili lesioni alla guarnizione della testata o altri componenti. Per info e informazioni, ci chiamate al numero 0141 96 92 14 o un'email a infochiocciolabiancoauto.it o un whatsapp al 345 060 86 80. Ciao a tutti, alla prossima!